Partiti. In terza posizione c'è il numero uno di Aibon, in giubba verde con il cap bianco, quindi per via interna Galoppa, Gelapi in Grigione. Per via esterna Levan, quindi a chiudere troviamo il numero quattro di Nuraghe Dezmaia, in giubba verde. Due lunghezze nei confronti di Olau, quindi in terza posizione c'è Aibon, che richiesto la frusta dal suo interprete, con in quarta posizione c'è Levan, quindi Nuraghe Dezmaia che si porta in quinta, a chiudere c'è Gelapi. A un giro salto dalla fine, sempre Orociallo in vantaggio, che aumenta il suo vantaggio, diventano cinque le lunghezze nei confronti di Olau, quindi è sempre richiesto sotto frusta, è il numero uno di Aibon, per via esterna c'è la punta di Nuraghe Dezmaia, che va alla ricerca del battistrada e si porta al contatto del frontrunner, quando Orociallo è 600 metri conclusivi, tenta di scappare, ma Nuraghe Dezmaia nelle mani, nessun interprete, è molto facile nei confronti di Levan, quindi Olau ha i 400 metri conclusivi, all'esterno c'è Nuraghe Dezmaia, all'interno Orociallo, quindi Levan e Olau, sull'ultima curva sta passando Nuraghe Dezmaia nei confronti di Orociallo, quindi Levan ha preso due lunghezze di vantaggio, il numero quattro di Nuraghe Dezmaia, che al momento paga 35 contro uno, la totte nazionale si sta staccando nei confronti di Orociallo, quindi arriva anche Levan ai 150 metri conclusivi, ha preso tre nette di vantaggio, se ne sta andando il numero quattro di Nuraghe Dezmaia, Orociallo che deve difendere la seconda da Levan, ci riesce, il quarto, il numero cinque di Olau, la quota shock per il numero quattro di Nuraghe Dezmaia, 35 contro uno, le telecamere che vanno sul vincitore, andiamo a rivedere i replay per l'affermazione del numero quattro di Nuraghe Dezmaia, che viene a vincere, molto facile, con in sella Simone Mereo, il training della signora Camilla Trapassi, il colore della signora Baldicchi Pascucci, per la seconda è Orociallo, per la terza è la numero tre di Levan, 4-6-3, l'ordine numerico ed ufficioso, per questa seconda corsa in programma.